Papa Francesco ha ufficialmente prorogato per due anni il governo pastorale nella diocesi di Novara del Vescovo Franco Giulio Brambilla. L'ecclesiastico lo scorso 30 giugno aveva inviato, come previsto dal diritto canonico, la lettera di rinuncia all'annunziatura apostolica in Italia per il compimento dei 75 anni di età. Con una lettera alla chiesa novarese il Vescovo, nei giorni scorsi ha dato l'annuncio della decisione di Papa Francesco. Festa del Boden, in piazza Bianchetti a Ornavasso, tutte le sere cucina e cocktail bar, da giovedì a lunedì 9 settembre.